salve a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo gameplay oggi ci troviamo su house flipper dunque ragazzi come vedete sto sto terminando o meglio ho iniziato di sistemare anche l'esterno della casa che ho acquistato qualche gameplay scorso scorso e la casa casa abbandonata l'ho già sistemata all'interno quindi l'ho arredata l'ho sistemato tutti i sanitari quindi è completa mi mancava soltanto la parte esterna devo dire che ho trovato un po di difficoltà nell'arredare questa casa perché perché praticamente gli spazi sono troppo piccoli a mio parere naturalmente secondo secondo gli spazi che abbiamo a disposizione gli spazi dell'ambiente che hanno a disposizione gli arredamenti sono un po più grandi infatti ho trovato un bel po di difficoltà diverse volte o ho comprato e poi venduto di nuovo i mobili che compravo perché non ci stavano non ci stavano completamente soprattutto per quanto riguarda la stanza da letto perché ho fatto una un letto matrimoniale ho messo però ora come vedrete tra un po risulta piccola mettendo già un letto matrimoniale la stanza si finito già anche colore vabbè viene tutta già occupata solo 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 dal come si chiama dal letto matrimoniale però vabbè alla fine ce l'ho fatta e quindi tra un po tra un po la vedrete non appena ma completerò questa parte dunque sono concentrato intanto perché vorrei fare se ci riesco questa l'ho fatta già no allora facciamo questa intanto dove sta il colore va bene compro un altro che tanto già si era anche finito la sto pitturando con il colore pesca chiara non so perché ma mi è venuto sto colore e quindi la sto la sto facendo la sto compilando così anche perché è un bel colore comunque anche per l'esterno non è male mi piace molto come colore devo vedere se c'è ancora un po di sporcizia in giro penso non più penso no ho pulito tutto pulito qui manca qualcosa no ecco qua si vede dalla finestra la stanza da letto e poi facciamo adesso un tour dalla della casa non appena termino di sistemare anche l'esterno hanno fatto degli aggiornamenti ho visto poco fa non so quando risalvono gli aggiornamenti ma ho visto che hanno messo qualche immobile di più dei nuovi tipi di mattone sia come sia per la parete sia come pavimento e poi hanno risolto anche dei bug che c'erano ancora allora questa qua la facciamo anche del stesso colore si questa qua stesso colore di questa vabbè intanto vado avanti vado avanti dove lo metto sto coso qua faccio stesso colore si 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 ma si poi soltanto il solo il retro voglio farlo in modo diverso andiamo se ci riusciamo naturalmente dunque ormai manca poco questo lo facciamo tutto in una volta perfetto questo non lo posso fare dove stai colore ho terminato un altro un'altra cosa di colore ho finito ma vorrei averne ancora un altro po quindi forse penso di farcela penso di farcela con quello con i secchi di color che che ho ancora ne ho ancora qui sì ok finito quindi riesco a fare forse questi pezzettini dove sei ormai penso di sì no ok dove sta l'altro colore eccolo qua dai ci sta ancora qui un po di colore vero sì perfetto dove sta davvero dove era arrivato qui ok forse ho finito tutta questa parte già pronta finita sì allora 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 adesso qui faccio tutto volevo farlo con il legno tanto per cambiare sono questo come se fosse un un altro ingresso un qualcosa del genere volevo mettere delle dei 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 pannelli da parete ma o eccolo tipo mattone chiaro vediamo come ci stanno vediamo un po prendi ecco ci sta ci vuole un bel po di tempo ci sta sì perché alla fine con questo ci sta anche posso fare così metto qua un altro dove sta dimenticato eccolo così che ne dite e poi possiamo fare anche vabbè ma è troppo tipo soltanto gli angoli con la con la pietra e resto tutto colore non sarebbe male sai non sarebbe male ma quasi quasi lo faccio così ragazzi faccio solo gli angoli però qua poi non lo posso fare questo lo prende tutto questo lo prende tutto il la pietra purtroppo non possiamo dividere le due aree come vogliamo un attimo da sono delle prove che io faccio perché intanto mi vengono nuove idee mi vengono man mano vediamo un po colore ma ce l'avevo un po vabbè questo anche colore che ne dite ci sta ma si dai facciamolo così questo sopra lo lasciamo però con la pietra facciamo adesso tutti gli angoli tutti gli angoli c'è tipo anche questa della porta con la pietra ok va davanti allora ragazzi a quanto pare sembra sembra che abbia finito anche che abbia finito anche l'esterno dunque lo faccio vedere subito togliamo sto coso ok quindi ho messo per ogni angolo ho messo la pietra una pietra chiara poi l'ho colorato il resto pesca pesca chiara sempre e anche su anche su ho messo la pietra dai ci sta no? sempre di sì questo qua sopra volevo fare soltanto diciamo i due pilastrini della porta e l'architrave ma non è possibile farlo il gioco non te lo permette quindi o lo facciamo tutto o niente quindi ho preferito farlo tutto ma solo in questa porta non nell'altra porta ok questa sarebbe la porta di ingresso quella principale eccola qua questa l'ho lasciata così tutta normale diciamo con il colore dunque ragazzi fatto questo possiamo entrare dentro dai ci sta bello sembra sembra simpatica carina no? vediamo quanto mi pagano adesso sti signori per una casa fatta così allora entriamo e qui abbiamo la zona soggiorno sala da pranzo infatti ho messo un tavolo che è effettivamente grandicello ma però non posso mettere un tavolino piccolo che non ha senso un divanetto che il colore non mi dice tanto ma era quello più piccolino che avevo che ho trovato quindi niente ho vabbè degli appendi abiti messi a cavolo di cane una pianta e un vetro uno specchio qui ad esempio io volevo mettere un piccolo mobiletto basso ma non sono riuscito a trovarne nessuno che ci stia perché piccolino lo spazio sono grandi i mobili quindi ho avuto dei problemi al riguardo qui entriamo qui dentro questa è la casa e beh scusate la casa la camera da letto ho fatto una camera da letto matrimoniale con televisore appeso quindi la solita specchiera un mobiletto basso di cassettiere un armadio come vedete lo spazio non è granché questo è quello che ci rimane ho messo soltanto di una tenda perché qui non potevo metterla cioè ne riuscivo a metterne soltanto una e non copriva il tutto quindi ho detto vabbè preferisco lasciarla qui verde anche però ci sta dai alla fine ci sta il bianco verde il marro giro un vent che della porta ci sta anche va bene così poi facciamo quindi questa l'abbiamo vista già messo qualche quadro anche i quadri mi sembrano grandi rispetto tutto il resto ma non lo so forse una mia fissazione o forse così in effetti ma non lo so vabbè allora qui anche una televisione un mobiletto porta tv eccetera eccetera qui con una porta scorrevole l'abbiamo visto nello scorso gameplay ho fatto qui la cucina zona cucina con un frigo e lavello base ho messo i forne quattro fornelli e delle mensole che sono delle mensole vi faccio vedere quali sono allora vediamo se riesco a trovarli adesso vediamo come si chiamano mensole che sono questa questa mensola sospesa che l'ho incastrato in modo tale da fare come un un piano d'appoggio per piatti eccetera eccetera ci sono anzi anche i piatti magari mettiamo qualcuno così tanto per ma non ci sono piatti non ci sono deposate non ce ne sono forse non riesco a trovarli io o non ci sono survival vediamo cosa c'è non ci sono qui no no forse non ci sono strano però vediamo altri c'è una cassaforte macchina devo fare lo specchio forchetta una sola ecco il tappeto lo metto il tappeto questo qua lo andiamo a mettere da questa parte lo mettiamo così meno un tappetino ok welcome ok e poi vediamo cosa c'è cosa possa ancora mettere ma una forchetta non mi serve solo una forchetta non posso metto un orologio la sveglia l'orologio libri elettrodomestici non c'è niente di che non riesco a trovarli però forse ci sono ma possibilmente non riesco io a trovarli va bene ok quindi qua l'ho completato con tutti questi pannelli di legno o qui prima era fatto con una pittura bianca potete vabbè ormai ne fanno faccio tutto uno ho messo anche qui pannelli bianchi poi abbiamo abbiamo da questa è la porta che va all'esterno questa è la porta che ci dà all'esterno qui abbiamo il bagnetto allora il bagnetto l'ho anche modificato un attimo ho messo qui accendiamo una luce ok ho messo qui dove c'è il lavello il lavabo ho messo delle dei come si chiamano ste cose ca e dei mattoni verdi ho messo l'architra una una colonna per distinguere la zona per non farla tutto uno ma ci sta una caldaia la doccia vabbè il resto quello che mi diceva lui ma secondo me ci sta allora qui possiamo mettere vediamo riesco a trovarlo qui cesto cesto per biancheria non lo mettiamo anche tanto alla fine qua dietro la porta ok così mettiamo qualcosa in più e quindi questo è il questo è il bagno non capisco perché queste luci non si accendono non so perché diamo no completamente non si vogliono accendere ma neanche se prendo un interruttore e lo piazzo qui non si accendono neanche tipo così no completamente vero no non fa niente vabbè e allora lo vendo tanto che ne devo fare perfetto peccato che non si accendono non capisco perché allora apriamo e andiamo a vedere cosa c'è ormai no tutto ah la la no abbiamo mi sono chiuso dentro sono chiuso dentro quindi questa è la casetta sistemata dai non è non è male però non lo so per quanto riguarda i mobili sono troppo grandi per quello che abbiamo per dove poterli mettere qui io volevo mettere sto mobiletto un mobiletto basso piccolino ma non riesco a trovarlo a meno che non metto un scrivanie no 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 allora vediamo non riesco a trovarlo cucina amba dei pannelli porte armadi armadietti ecco qualcosa del genere ma non ci sta niente sono troppo grandi sono scarpiere con gancio vediamo questo però ci vuole un bianco non ci sta bianco vediamo vediamo bianco ma forse questo sì però non ci sta perché c'è allora se io ti metto qui questo qua lo metto così che ne pensate questo ci sta adesso ma non ci sta mannaia perché non ci sta non c'è spazio ma così sì però ok dai lo lascio così certo era meglio un colore diverso vediamo che color ci sono a disposizione allora fronte bianco o nero maniglia bianca colore a bianco arancione no grigio non possiamo fare questo qua mettiamo vediamo come ci sta forse 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 leggermente meglio allora vendiamolo andiamo questo e posizioniamo questo qua così va bene c'è un po di spazio va bene dai almeno c'è qualcosa di più all'ingresso da ci sta bene no questa era la stanza da letto che la camera da letto che l'ho terminata non sapevo come mettere dall'altra parte da questa parte però poi alla fine vabbè ho deciso di lasciarlo così qua cosa manca qui possiamo mettere una un orologio qualcosa no niente dai non ne mettiamo quando non dove metterlo a meno che questo qua io non lo sposto lo metto qua e qui compro compro tutti consigliamo orologio come no oro loggio colore bianco arancione azzurro bianco e questo è colore bianco ma se lo dice lei lo posiziono qui a questa altezza va bene perfetto ragazzi allora la casa abbiamo terminato adesso andiamo a venderla come si fa a vendere la casa invio allora sei sicuro di voler vendere questa casa di si casa acquistata per 26 mila euro il terreno intorno la casa non una superficie va quattro camere il tuo budget attuale di 17 mila euro che non sono in questa casa è stato di quattro ore vabbè io allora inizia a sta vediamo quando vorrei affittare questo appartamento a due persone quindi è bello che abbiano un posto dove dormire vabbè la casa in affitto dovrebbe avere due bagni minimo per due persone due bagni c'è una grande camera da letto carino non capisco a chi diavolo che diavolo mi servo questa cucina ok quindi non ho bisogno di due camere e non ci sono due due camere da letto ce n'è una sola ci sono troppe camere una casa senza bagno beh c'è qualcosa che non va ma il bagno c'è scusi e che dal al vincitore lui 38 mila euro ci dà e noi ne guadagniamo quanto 9700 possiamo portarlo a possiamo negoziare l'offerta però non capisco una casa senza bagno e ci sono troppo camere sono quattro ho bisogno di una camera da letto non di due c'è una sola camera da letto vabbè questa c'è solo una camera da letto non due forse perché il letto matrimoniale risulta come se fosse due camere da letto non lo so camere da letto supplementare saranno sempre utile per un conquistatore come me la pera a raffa a vaffanculo senza bagno vabbè sei il tuo il vincitore però gioia negoziamo un po l'offerta proponiamo noi un aumento magari di mille euro no troppo 1200 da almeno qualcosina la voglio guadagnare un po di più no perché insomma costi di ristrutturazione 500 euro mobili acquistate 5000 euro negozi vediamo un po la tua offerta è troppo bassa posso venderti non problema la prendo ok va bene perfetto casa venduta accetta l'offerta così guadagnavo magari già 11 mila euro o dai ci sta ci sta accetta l'offerta perfetto ottimo abbiamo venduto finalmente la nostra prima casa dunque adesso provo di nuovo ad acquistarne un'altra casa e poi magari piano piano la la sistema allora acquirente queste sono due impressione quali sono le tue impressione dopo la prima se vuoi controllare alcuni dettagli sugli acquirenti prima della prossima ho salvato nel tablet due appunti su di loro e come faccio prendere il tablet così le statistiche acquirenti nessuna casa acquistata nessuna informazioni ispettore delle tasse o e pagare il meno possibile ok va bene qui sono i nostri acquirenti va bene da cercheremo adesso di fare una bella casetta allora apriamo io mi tengo questa che la mia è così e piccolina ed è simpatica anche la televisione si è spenta non so perché allora proviamo a browser però io devo fare prima in possesso vendute a questa qua quella la venduta va bene va bene allora in possesso abbiamo uno da acquistare quando abbiamo noi 57 mila euro acquistiamo acquistiamo questa casa andiamo così diciamo a in ordine hanno detto anche a proposito di aggiornamenti che hanno aggiunto anche qualche altra casa forse queste ultime due ma sono prezzi elevatissime la casa degli sposini in casa di famiglia va bene questa è bella il bunker va beh allora compriamo questa casa vediamola intanto vendo da ristrutturare nella casa scoppiato un ingegno ma io ma la casa non ha non ne ha sofferto troppo vabbè vediamo un po le foto di questa casa e no 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 completamente guarda non ha sofferto niente in buono stato quanto numeri piani va bene sembra stile quello che già abbiamo fatto praticamente stile casa abbandonata solo quello che aveva due ingressi questa forse soltanto 9 acquistiamola vai e la vediamo un attimino e chiudiamo qua questo piccolo video non è durato tanto lo sopra vediamo per il prossimo video per questa casa magari la faccio la faccio chiudi se hai una voglia di mettere in vendita magari prefissita sfregli lì ok vediamo questa casa come premi per gettare premi per gettare va bene questo è tutto da ristrutturare la casa fa uno schifo ma ci sono anche qui due ingressi vabbè allora stile quella che già abbiamo fatto stile la casa abbandonata apriamo la arti sesamo c'è uno schifo armati ma il tetto qui arriva qui vabbè perché non si può fare il tetto si può anche soltanto pulire e basta allora questo vabbè soldi si è stile quella che ci sarà la stanza da letto sì peccato che io tipo questa trasformerei in un bagno sono ci sono troppo finestre o in una cucina solo che non si può fare questo è proprio un peccato è quasi sia stile quello che abbiamo già fatto vabbè però magari provo a farla diversamente io proverei anche qui a facciamo soltanto una prova ragazzi e poi chiudo non posso non lo posso fare se sarebbe piaciuto a me murare questa porta tanto ma non si può no non si può non si può peccato va bene ma non si può perché c'è sto coso buttiamo giù qui però posso fare io l'apertura grande eh sì qui sì penso di sì no perché non me la fa buttare giù purtroppo no vediamo proviamo no non infatti infatti non mi fa buttare giù questa parete perché questo in teoria è un muro portante se tu butti giù questo ti cadrà la casa addosso praticamente però potrebbe permettercelo anche va bene ragazzi allora per questo gameplay è tutto grazie per avermi seguito spero che il video vi sia piaciuto o commentate iscrivetevi e condividete grazie e alla prossima ciao belli grazie a tutti grazie a tutti